Forza così! Tagliare l'audio Ehm... Sì, si... Viva! Viva, per non lanciare un sacco da posso scappare Viva, vada! Vieni, stai gatti! Fuori tre, bersagli prioritari sistemati Viva, viva! Viva! Viva, viva! 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Bello. Bello. No. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So. Alla Rambo. Rambo. Matteo. E poi. quell'altro. l'account. è andata. è andata. E' andata. è andata. E' 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 andata. Ei. E' andata. Adesso. e' andata. C'è un bale. 松 gate. Adesso. ma non si può fare ci farci per seguire se è possibile fare il viceversa e non si può essere a mezza parte proprio è grande non c'è niente che non c'è niente 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 e riaviate tutti i porti sono entrato ragazzi potete fare la musica che mi dà copyright è vero è vero quello che ho c'è c'è arancione sta un po' a poco il cazzo le ho sta tutta roba lo dico io subito via ma ma alcolino abbiamo messo dentro? che occhio ha da questo? no, l'ho messo colino ma hai più c'è di scorrere mai mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede mi chiede oh 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 ma tu era entrato ma te ho ricletto io sento l'ascostazione mi chiede mi chiede mi chiede ma mi chiede mi chiede ragazzi i franzini io mi chiede tutto tante le scarpe ma� ragazzi fate bravi su stare un pazzesco davvero il cazzo di schiavo perché qua mi rimbomba l'audio perché sono magari qualcuno giustizia arancione tipo ex i detani presenti la mia rilevata una posizione vicina sorvegliata da ostini cazzo 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 quale l'acqua di un po' di merda cosa vuoi dire? io mi fai questo gesto che lo dico se vuoi essere... un po' di scuola e poi chiama se vuoi dire qualcosa dai due o tre mani ok zona sgombra a nutella io ho un bel flattano faccio e te fai provami pace allora questo mi fai sotto e te fai solo magari se ecco spazio 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 mi fai sotto mi fai sotto non c'è inizio 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 e quindi inizio 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 Perciò guarda male Ma se tu capisci che sonsa da quest'rugno io? E se hai fatto la peglia? Mi hanno fatto un po' di problema inizia la mia insomma E tu madre e me ce l'hai da me Ho rilevato lo stile, con coranza pesante Si, va bene? Uè, a dove va? A dove hai fatto qui? A dove hai fatto qui? Oh mio, ho pinto, ma adesso fa qualcuno di sbaglio no, no, chiudo ma non è mai che non si fa il cuorlo dove cazzo vai? 09 09 di merda E' un da, un bezzate che c'è il figgino E per se pensi che io ce l'ho a salvar mondo, eh? Per se non mi fa una pimpia a quattro mani Ad un posto conquistato, per fatto Per se non mi fa una pimpia a quattro mani Per se non mi fa una pimpia a quattro mani Per se non mi fa una pimpia a quattro mani Per se non mi fa una pimpia a quattro mani medica del merda, con l'animetica che li ho messo ma perchè lì il medico scudo è 49 ok, quella giurata ok, quella giurata oh, è un po' stai la la ma lì e poi guarda ooooh sto freccia li vidi li vidi eeeh eeeeh 0 9 che ora lo sai coglione pò non lo sai coglione l'evento 10 anni 2006 la città il posto non di rispettare a portare non porto mi porta rispetto no, ti faccio, non lo è io ho i capelli un'altra io ho i capelli, non lo è tu vuoi rifiutare il figlio? non credo che dovessi dare a fare un'altra eeeeh, non viaggerei io mi credo che dovessi dare a fare un'altra A parto su vai Sto bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.